ciao a tutti e benvenuti nella mia rubrica consigli del giorno oggi parliamo della tecnica c2c nel video precedente abbiamo visto i punti base lavorando con un unico colore oggi invece vediamo come cambiare colore e quindi con un piccolo schema molto semplice di un cuore vediamo proprio come come disegnarlo con l'uncinetto nel video precedente vi ho spiegato come iniziare il lavoro e come proseguire nei giri per cui oggi partiamo direttamente dal metà del quarto giro proprio dove si inizia a cambiare colore allora giro il lavoro perché comunque la lavorazione procede sempre da destra verso sinistra allora adesso che ho fatto il terzo quadratino anzi non l'ho concluso devo andare a cambiare colore perché vedete io sono in questo punto su quadratino rosa per cui devo andare a lavorare il quadratino rosa allora vado a lavorare l'ultima maglia alta del terzo quadratino bianco e non lo chiudo però e prendo il filo rosa quando il filo rosa e ci chiudo la maglia alta mi porto dietro i due fili sia bianco che rosa e vado ad agganciarmi sul quadratino di fianco con la maglia bassissima a questo punto lavoro le 3 catenelle e poi le 3 magliette per completare il quadratino 1 2 e 3 allora adesso taglio i due fili sia bianco e rosa in questo punto sono nascosti ok e rimango in teoria solamente con il filo rosa riprendo l'uncinetto in filo adesso però il quadratino ma l'ultimo è bianco per cui devo riprendere il bianco riprendo il bianco e chiudo la maglia alta rosa con il bianco e come prima mi porto dietro i fili di nascondo mi aggancio al quadratino di fianco e chiudo con la maglia bassissima lavoro 3 catenelle 1 2 e 3 e lavoro le altre 3 maglie alte quindi una 2 e 3 ok adesso vado di nuovo a tagliare i fili ok quindi ho concluso la quinta riga ora procedo tornando indietro quindi da quassù procedo in questo senso e faccio la sesta riga quindi quindi vado in questo senso quindi devo lavorare la prima il primo quadrato bianco poi dovrò fare uno e due quadratini rosa vediamo allora inizio la sesta riga quindi lavorando quindi quando si fanno gli aumenti per aumenti si intende che siamo partiti da un quadratino può diventare due poi tre poi quattro più cinque quindi si aumenta di un quadratino ogni volta e praticamente ogni volta che si fa un aumento si inizia lavorando sei catenelle ok quindi lavoro le mie sei catenelle una due tre quattro cinque e sei poi giro e vado a lavorare sulla quarta catenella quindi una due tre quattro sulla quarta catenella lavoro la maglia alta poi altre due singole quindi due e tre allora abbiamo visto che il secondo quadratino è rosa per cui devo andare a cambiare colore colore e non devo chiudere quindi l'ultima maglia alta con il bianco ma la chiudo con il rosa mi aggancio mi aggancio portandomi dietro i fili al quadratino di fianco con la maglia bassissima e lavoro le solite tre catenelle una due e tre quindi portandomi dietro i fili lavoro le altre tre maglie alte due due e tre anche il terzo quadratino è rosa per cui mi aggancio sempre al quadratino di fianco sulle catenelle con la maglia bassissima e vado a lavorare un altro quadratino rosa nel frattempo nel frattempo prima di continuare posso tagliare i fili quindi continuo lavoro il quadratino rosa uno due e tre catenelle e le tre maglie alte quindi una due la terza come il prossimo quadratino deve essere bianco non la chiudo prendo il filo bianco e ci chiudo la maglia alta e mi porto dietro i fili e chiudo con la maglia bassissima agganciandomi al quadratino di fianco quindi continuo lavoro tre catenelle e nascondendo sempre i fili lavoro le tre maglie alte nel quadratino due c'è una due e tre allora vediamo che questo è quello che ho lavorato adesso devo farne altri due quindi mi aggancio e riparto con tre catenelle e tre maglie alte due e tre chiudo perché tanto il prossimo è sempre bianco quindi mi aggancio al quadratino di fianco e inizio l'ultimo quadratino della riga quindi tre catenelle tre maglie alte ok allora in realtà la tecnica base per il cambio di colore prevede che il cambio di colore non venga fatto sull'ultima maglia chiudendo le soline con il colore nuovo ma facendolo in questo punto quando ci andiamo agganciare sul quadratino successivo cambiamo in questo momento e poi lavoriamo ok e andiamo avanti e poi ci andiamo agganciare sempre nello stesso modo solamente che a me non piaceva molto l'effetto che faceva questa asolina qui che si vedeva diciamo in alcuni punti e quindi ho trovato l'altra alternativa e poi un altro motivo è che utilizzando la tecnica di tagliare il filo ogni volta che si cambia colore c'è il rischio che si allenti diciamo non sia molto saldo ecco vedete se tiriamo un pochino tende a sfasciarsi quindi ho trovato questa alternativa che però diciamo ha un punto leggermente diverso sul finale quindi andiamo avanti con il lavoro questo è un inciso e alla fine del lavoro quindi quando avrò completato la mattonella vedrete la differenza che c'è insomma ora inizio il settimo giro allo stesso modo inizio con le sei catenelle faccio il primo quadratino bianco non chiudo l'ultima maglia perché cambio colore con il rosa e lavoro uno due tre quattro cinque quadratini rosa e l'ultimo lo faccio bianco non ve lo faccio vedere vado avanti e poi vediamo il risultato ecco qua ora iniziamo l'ottavo e ovviamente lavoriamo sempre seguendo lo schema quindi lavorerò quindi sono arrivata qua su devo tornare indietro e quindi lavoro uno bianco poi uno due tre quattro cinque rosa e due bianchi procedo eccoci qua ora andiamo a lavorare la nona riga che in questo caso qua aumenta ancora che è rettangolare non è quadrato mentre qua su chiude ok quindi vediamo come come fare adesso inizio il nono e arrivo fino a qua sopra vediamo come come si fa la chiusura abbiamo già vista la volta scorsa però ve lo faccio rivedere eccoci sono arrivata alla fine della riga mi trovo in questa in questo punto vediamo se vedete bene qui anche se sembra l'opposto ma se voi girate lo schema questo modo vi ritrovate nello stesso punto vedete quindi sono sotto al decimo ma è comunque il nono perché dovete guardare la riga in questo senso è ok quindi vedete che qui si chiude non aumento più non arrivo qua sopra mi fermo quindi come dicevo l'altra volta si fa in questo modo mi aggancio poi giro il lavoro e lavoro delle ma delle maglie bassissime fino ad arrivare alla fine del quadratino in questo modo e da qui adesso posso ripartire in questo caso dovrò fare sul decimo giro quindi qui un quadratino bianco per cui riparto come sempre con 3 catenelle a questo punto no non come sempre anzi riparto con direttamente con 3 catenelle e vado a lavorare il primo quadratino quindi lavoro le altre 3 maglie alte poi qui devo cambiare colore quindi prendo come vi ho spiegato prima l'altro colore e chiudo la maglia alta e poi agganciarmi al quadratino laterale e riparto con tutto lo schema ecco qua qui c'è stato anche l'aggiunta di un terzo colore che non cambia nulla da quello che abbiamo visto fino adesso perché basta solamente mettere un colore diverso e andiamo a vedere l'undicesimo giro allora come vedete l'undicesimo giro non va più avanti si ferma quindi lavora sopra il quadratino sopra quello del decimo non devo iniziare qua ma qua sopra per cui dovrò fare come ho fatto prima le maglie basse per portarmi fino a qua vediamo quindi giro il lavoro lavoro le maglie bassissime fino ad arrivare alla fine del quadratino e ora posso iniziare direttamente quindi lavoro direttamente sopra questo quadratino e riparto come ho iniziato il decimo giro con 3 catenelle non più 6 perché 6 le faccio quando faccio l'aumento 3 quando invece ho il giro diciamo non aumento più quindi le 3 catenelle e poi le 3 maglie alte qui devo fare 1 2 bianchi e poi seguo lo schema insomma ok quindi vado avanti e poi ci vediamo alla fine insomma del nostro quadratino di questo nostro rettangolino di c2c è molto importante seguire lo schema e fare queste frecce che indicano direttamente il sezione sia per tenere il segno della riga che state lavorando ma anche del colore quando cambia per esempio io faccio in questo modo quando inizio un nuovo giro per esempio adesso devo iniziare il dodicesimo faccio due frecce sullo stesso colore per esempio qui c'ho due bianchi faccio su queste due frecce e so che devo fare due quadratini bianchi poi fatto quello faccio la freccia sul rosa 1 vuol dire che devo fare un quadratino rosa anzi devo fare 3 quindi 1 2 3 ecco mi serve sia per diciamo per tenere quindi la riga che quanti quadratini devo fare dello stesso colore è molto importante perché poi acquastare sapete benissimo che non è molto divertente perché poi tocca ricominciare da capo ecco qua la mattonella terminata allora volevo evidenziarvi il risultato delle due tecniche di cambio colore cioè qui in questo video ho fatto solamente il cambio colore tagliando i fili insomma ogni volta però come avete visto i momenti in cui si cambia il filo sono diversi questo è quello che diciamo che vi ho fatto vedere per primo e diciamo che l'unico difetto che trovo è quello che da un verso diciamo non da tutti e due il quadratino non è proprio ben definito diciamo c'è un piccolo strascico diciamo da una parte mentre questo diciamo rimane un po più definito come quadratino anche se in alcuni punti comunque tende ad andare un po' di lato mentre dall'altro verso diciamo qui ho fatto solamente due cambi di colore quindi magari si vede di meno però diciamo una piccola imperfezione c'è dal punto di vista del quadrato però è più bassa il difetto che ho trovato più che altro cambiando colore tagliando sempre il filo è che non è molto resistente il filo diciamo sicuramente non basta farlo passare solamente sotto le tre maglie alte del quadratino perché tende poi a sfilarsi cambiando il filo in quel punto mentre in questo rimane più fermo diciamo essendo agganciato comunque alla maglia alta all'ultima maglia alta rimane più fermo il lavoro ecco quindi magari fate delle prove vedete quello che vi piace di più comunque nei prossimi video vedremo la tecnica utilizzando questa diciamo del momento in cui si cambia colore come su questa mattonella però senza tagliare il filo quindi vedremo altre tecniche per intervenire meno a questo problema ok spero che il video vi sia stato utile vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao